Dobbiamo ricordare come patrimonio inestimabile di umanità l'abnegazione dei medici, dei sanitari, dei volontari, di chi si è impegnato per contrastare il virus, di chi ha continuato a svolgere i suoi compiti nonostante il pericolo. I meriti di chi, fidandosi della scienza e delle istituzioni, ha adottato le precauzioni raccomandate e ha scelto di vaccinarsi. La quasi totalità degli italiani, che voglio ancora una volta ringraziare per la maturità e per il senso di responsabilità dimostrati.